Sei un privato ai cerchi lavoro? YesWeNet.it Sei un'azienda e ti serve maggiore produttività? YesWeNet.it YesWeNet L'unica rete che ti rende libera Ok, let's go, we are ready Ci siamo? Per il gran finale di Bari c'è spazio anche per la grande musica internazionale la musica dance che ormai è in betta tutte le classifiche anche pop per cui diamo il benvenuto ai giovanissimi e talentosissimi Altenbach, you're welcome in Puglia, in South Italy No, but we're super happy to be here Sorry for you, but we bring the rain today Yeah, sorry for you Bye 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 Benvenuti al Battiti Life Benvenuti a Maneskin Per la prima voi Noi siamo molto contenti anche perché era un po' che non venivamo da queste parti quindi l'accoglienza è sempre molto calvosa è sempre molto bello non vediamo ancora di vedere il palco con tutti gli altri artisti Ferrovie a Pulo Lucane è cambiato il modo di viaggiare in Puglia e Basilicata Questa sera per il gran finale di Battiti Live a Bari c'è un catering importante di un amico, di una presenza ormai fissa Buonasera Paradise Gastro è importante sottolineare ecco, specifichiamo bene, fallo tu Esatto Perché Paradise Gastro mantiene quella che è la tradizione esaltando il gusto e mantenendo, cioè cercando di soddisfare qualsiasi richiesta Quindi due cose fondamentali il gusto e anche la velocità la rapidità e la possibilità di pagare con i ticket elettronici che non è da sottovalutare E allora, per le pause pranzo ma anche per i giorni i cui non ci va di cucinare tutti da Paradise Sì, aspettiamo Sì, aspettiamo Sì, aspettiamo Sì, aspettiamo